Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, riprendiamo la nostra partita in The Air Billions Nello scorso episodio abbiamo iniziato a fare, anzi forse due episodi fa abbiamo iniziato a fare questa missione La Costa delle Ossa Nello scorso episodio però abbiamo subito la prima ondata E' andata non benissimo, cioè non è venuta pulita come avrei voluto ma Diciamo che possiamo anche non lamentarci, quindi è andata abbastanza bene Quello che volevo fare oggi, come ho detto alla fine dello scorso episodio Che però per me è un'altra sessione di registrazione, quindi me lo ripeto anche per me stesso Tanto sto cercando di usare Wast perché sto giocando 8 gioco contemporaneamente Cos'è questo? Batteria Eh, figo Batteria, quello che ci serve Comunque sarebbe quello di bloccare qua, qua Poi sistemare questo muro che non va bene Qui e poi espandere magari da qui a qua Quindi qua non serve bloccare, ma qui si Qui a nord voglio esplorare meglio la mappa e anche di là Quindi iniziamo immediatamente a comprendere tutte quelle che sono qui E le mando in attacco in questa direzione Poi c'è da fare un po' di progettazione C'è da fare un po' di progettazione Inizierei da questa parte, non abbiamo tanta legna Qua invece ora ne abbiamo un botto E tra l'altro è tutto da riparare, quindi io la distruggo perché non ho intenzione di ripararla Cioè teniamo giusto un layer Per essere sicuri, ma va bene Questo qua invece lo ripariamo, sì No, non tutto Vabbè, questi qua andava bene Ripararli Questi li distruggiamo Just tell me what to do Just tell me what to do Ok, questo E qua ce ne stava un'altra, qua un'altra Così, perfetto Ok, qua No eh Qui una Ok, non abbiamo molto spazio per espanderci in questa parte Quindi adesso andremo a metterci di qua Pazienza se non è nel raggio di questo Cioè teoricamente potrei spostare questi qui eh A fare le cose in maniera ancora migliore Comunque il progetto da fare è questo E servirà anche capirlo per le missioni future Allora se schiaccio F4 No, questa cosa diciamo non mi aiuta Però voglio vedere per le Per le I binari Allora il muro deve per forza essere qui Perché non possiamo metterlo più avanti Perché qua non si può costruire E non può essere nelle parti orizzontali o curve Quindi solo in quella diagonale diciamo Quindi solo qua O solo qui ovviamente girandolo Con il tasto tab Quindi Però anzi possiamo metterlo uno avanti Diciamo doppio muro perché comunque doppio muro ci sta Questa qua la distruggo E ora Distruggerò anche questi mure in maniera tale che partono da qua Anche questa qua la distruggo Ok va bene così Forse ho dovuto trovare un po' di legna perché ero già al massimo Non ci ho fatto caso Pazienza Però questo sarà la Il limite finale della nostra colonia Per forza di cose Quindi ora aspettiamo di ricostruire un paio di cosette Qua c'è un'invasione barbarica Ok questi qua li mandiamo di qui Ok abbiamo comprato le billette Devono essere costruite quelle Vediamo se li riusciamo a fare così Si Prendendo una La portiamo in avanti Qua sta arrivando un po' di gente Ok bene Cerchiamo di eliminare questa parte Ok bene Molto molto bene Pulito in quella direzione qua Abbiamo ancora un 10 giorni Prima della prossima ondata Che potrebbe essere di qua come no Non lo sappiamo Io lo metterei qua Ok Però questa è la difesa migliore che posso mettere in questa zona Units under attack Ne stanno uscendo un bel po' eh Wow Allora scappate tutte Ok Hold Poi prendiamo questa qui E vediamo di Distrarli tutti Ok Un po' di kiting Ok Ok Fai anche l'ultima E poi vediamo cosa fare Questo è fatto Metterò in pausa un po' di volte in questo video Perché appunto non gioco da qualche giorno E non voglio fare cappellate per questo motivo E poi appunto perché No in realtà il motivo è solo questo Ok Queste qua si mettono qui Teoricamente lo rimpiamo di arcieri sia di qua che di là E dovrebbe essere sufficiente Per resistere Questa la vado a mettere qui Un po' inutile lì La mettiamo qua Noi non possiamo già andare avanti Così chiudiamo anche quella zona E ora facciamo così Ok Voi fate da qui a qui Tu mettiti qui con lei E questa parte è a posto Unit under attack Non vedo dove Non dovrebbe essere qui E non dovrebbe essere qui Sei tu Ora vai dietro gruppetto Per favore Ok Tornate ad attaccare in quella direzione Che va bene Ok Per ora va bene così Questa parte qua ovviamente è tutta da ampliare Ci serve energia elettrica A questo punto queste due batterie diventano fondamentali Ok Vediamo di liberare tutta quest'area qua Perché mi piacerebbe conquistarla insomma Ok Dunque A questo punto Qua ne possiamo fare un bel po' direi Però prima vorrei pensare al cibo Cioè piazziamo il cibo Che è fondamentale In questa mappa Visto che Ci sono un bel po' di zone desertiche E così Non ci dobbiamo pensare più Quindi questo È quello che possiamo fare da questa parte Di là siamo a posto Fatto ciò Andiamo a mettere giù le tende Che qua non posso metterla Anche se sono sfasate fa niente Che qua non posso Qualche motivo strano fa niente Facciamo così così si pareggiano Non andrei oltre Perché appunto Siamo in una zona abbastanza Esterna Ok Il fatto che qua Li abbiano attaccato dall'altra parte È un po' un problema Ok torna a spingere di lì Che è quello che serve Qua non sono pochi Vai di lì Ok A posto Ripara tutto Che dovrebbe essere comunque Tutta roba definitiva O quasi Questa no Perfetto Beh in realtà Magari qua mi fai fare Un terzo strato Di Di mura Ok Ok Questo qua dovrebbe essere Una sorta di Cosa massima Quello che potremmo aumentare Visto che qua Questo non lo posso fare Mettere delle mura Ulteriori Per cercare di comprare Altro spazio Però ci serve Altra linea Allora Andiamo a distruggere Questo 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 E questo Questi ancora Non li tolgo Perché sono Un'unica difesa Se tipo là Le cose precipitano Però voglio Completare un lato Anche perché Probabilmente Ci attaccheranno A ovest A est Anche se ho visto Che l'attacco è partito Da qua Non vorrei che Partendo da qua E non essendoci Un buco ampio Come questo La difesa sarà qui Quindi vorrei Portare la difesa Qui il prima possibile Quindi potrebbe essere Diciamo Non dico inutile Ma superflua Questa parte Che qua è Un Insomma Ok Ok tu stai qui E questi Quattro Sono dedicate Per ciò Possiamo iniziare A fare questi Ci serve il legno Possiamo fare i cecchini Ok The wall What Ok adesso dovrebbero entrare Un po' di cittadini Quindi ci serve Solo energia Qua alla fine Penso Non si è morto Nessuno Di questi Ma quanta gente C'era dentro Mamma mia Ok Vediamo se possiamo fare Questa struttura qua Donde stas Qui Come funziona Allora Edificio principale Della colonia Da qui puoi Ordinare la costruzione No non è vero Questo qua Che sto leggendo Possiede un ampio Un campo visivo E permette di individuare Nemici E Tracce nemiche Allora io la piazzo qua Qua E per ora Va bene così Ok Poi energia Serve altro legno Serve altro legno E qua Abbiamo la possibilità Di recuperare Altro legno Di sicuro 14 Si è il posto Decisamente migliore Possibile Ok Cerchiamo di pulire Questa parte Qua recupera Queste risorse Ok Aspetta 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 Non prendere altro oro Che Sarebbe sprecato Teoricamente Io so Che se distruggo Questo Una volta Era così Non posso più Costruire Le cose Necessarie Facciamo Tre cecchini Che ci saranno Dell'unità Diciamo Elite Ora abbiamo 39 Lavoratori Questa sarebbe Davvero bello Poterla piazzare A qualche parte Tipo Qui E per più avanti Il cibo Per ora C'è E comunque Qua possiamo Fare fattorie In quelle zone Lì Ok Per ora Va bene così Questo però Non va bene così Allora Di qua Ci siamo espansi Bene di qui Ora devo decidere Da che parte Espandermi Io direi che Considerando Che spero Sia così E non ci riattaccheranno Da questa parte Per ora Non mi spando Di qua Quindi richiudo Questa zona Facciamo così Così Mi rimandi dietro Quattro Qui Che fate Perché vanno in via Tutte Sono matte In realtà vanno in via Quattro Selezionate quattro Sono partite tutte Ah no Perché io ho detto Di fare Così Ok Allora Queste qua Facciamo così Davvero Teniamo che Da qua Fanno da qua Allora Abbiamo scoperto Che qua ci sono questi Qui ci sono quelli Ma qua è pulita La zona E' utile Vedere Tutta questa parte Allora Espandiamoci di qua Quindi Sì Abbiamo gli sniper Perfetto Ok Perché sei qua Da sola Ok Da questa parte Sei sicuri Quindi ora Mi posso concentrare E espandermi di qui Cerca di ripulire Quell'area lì Ok Fammene un po' Dobbiamo usare gli sniper Questo arriva qui Ok Ok Vediamo se questa parte funziona Ma dovrebbe essere Proprio La chiusura Più potente Che posso fare Insomma Ok Perfetto Qua ci mettiamo Questa qui Che Così non rompe le valle Perfetto Qua possiamo Ricavare Altro cibo Che va bene Che va bene Ci stanno iniziando ad arrivare Mancano 21 giorni Ok Allora Sniper Ehm Ah, voi mi fate da qua a qua perché non deve passare proprio nessuno Voi invece andate qui Così Ok, mettere la chiusura proprio qua Ora quando è pronto l'altro Procediamo oltre Ok, dai che stiamo ponendo bene la mappa Qua c'è qualcuno ma la situazione è sotto controllo Non so cosa possa servire il metallo Ok Ci dovesse servirmi in futuro una... WTF? Ah, perché ti sei incastrato? Facciamo da qua Ok, qua possiamo fare una striscia ancora più avanti Quando avremo altro legno Ma qua la situazione è positiva Ok Cosa manca? Niente Quindi a posto Ehm Fanno altri di questi Dobbiamo arrivare a quanto di popolazione? Che non mi ricordo 800 Siamo a metà Dovevo prendere quel legno lì Ok Ma potrebbe aver senso espanderci Anche da questa parte Perfetto 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 Dai che sta venendo fuori una colonia decente Ehm Facciamo un doppio strato di muro Tanto gli sniper colpiscono anche per i lontani Non so se avrò attaccato da qua Ma preferisco avere uno strato ben difeso Tanto mancano un bel po' di giorni E poi pensare dopo al resto Per ora non sto facendo neanche il muro come si dice Allora Eh non sono pochi questi Però si Va bene Allora non ci servono le fattorie ma io inizio già a piazzarle giù 64 Che è il massimo Producendo gli altri tre Qua non c'è proprio più spazio per metterne nessuno Nessuno Ci maneggia un po' Ci serve altra legna Possiamo ricavarla qua La messa di nuovo Ok Altra Tesla Tower Dove? Ok si serve un altro Tesla Tower Manca il ferro Ecco cosa serviva il ferro Finora però non Non mi sembra di averlo raccolto C'è un modo per prenderlo E così E così Poi possiamo fare un sacco di caso ovviamente Allora mandiamo un po' di sniper Che sono in grado di eliminare qualsiasi nemico Ok perfetto Completiamo questo muro Quindi la situazione Diciamo questa parte è conquistata al 100% Questo se l'è Cibo Prendilo Non si può Perché no 107 Ok produciamo troppo cibo Produciamo troppo cibo Vuol dire che L'energia Voglio iniziare a metterne un po' Qui Ma quello che dobbiamo fare di sicuro sono Le case C'è qua non posso mettere nessuna parte Altri case Qua Andiamo a metterci comunque in mercato Spara plus da due parti Ma perché non prendi queste cibo qua Voi non ce la fa proprio Voi sparate di lì Vediamo cosa c'è Voi di qua Ok Sarà altro oro Ora proviamo la legna Ok Diceva che c'erano le montagne a nord Quindi forse qua iniziano le montagne Uh Sta arrivando qualcuno Vedo un bel po' di rosso attorno ragazzi Mancano sette giorni all'ondata Se dovesse essere da queste parti saremo a posto Se dovesse essere a nord saremo nei cazzi ai mari Quindi facciamo così E da questa parte Dobbiamo sistemare la questione di sicuro Hmm Ah perché ci sono pure gli ufficiali Sì voglio chiudermi anche qua Però voglio vedere cosa c'è qui Uh Un sacco di gente Ah no riescono a colpire No ce la fanno Ok Mandamene qua altri tre Perfetto Anche qua ci bisogna di qualche sniper in più Queste erano bloccate completamente Ma Siamo abbastanza a posto Ok Uh un'altra casetta Comunque potremmo chiudere qua Potremmo chiudere lì Eh Spanditi qua Ok Ok Sì qua sto facendo qualcosa che non dovrei fare Probabilmente Vedi Ok Ok Dai qua va bene Va bene Non solo perché gli sniper sono davvero forti ragazzi Meno male abbiamo fatto questa beeline sui sniper Perché di sicuro ci stanno salvando le chiappe Ok 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 perfetto Cibo c'è Sì forse Meglio potenziare queste diciamo Nulla 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 Eh voglio fare un muro qui Qui e qui E poi dopo Qua Qua e qua Non so se faccio in tempo A proteggermi a tutte le parti Però ma qua sopra è fondamentale Perché Sì E Nel caso qua Rifacciamo la stessa difesa dell'altra volta Tanto ora Ho la testa da tavola e posso mettermi Più avanti Quindi nel caso Possiamo ottenere Diciamo Quella parte lì uguale Qui vedi lì Vai in su Non capisco perché non mi vai a prendere questo Vuoi buggo A niente Ok Provaci Riescono a ucciderle abbastanza velocemente Qua invece è andata malissimo Fermi tutti Mamma mia quanta gente sto uscendo Hold Hold Però ne vorrei un altro Poi ne vorrei qualcuno Che da questa parte Ok Legna Questa parte è abbastanza sicura Queste forse sono le montagne da nord Dove è arrivata la prima urdata Urdata La prima urda Quindi Andiamoli A fare così Per adesso Che va bene Il pattuglia Mi piace Allora Qua le mandiamo uno qui E uno qui Perché voglio Assicurarmi questa parte Con tutti degli sniper Ok perfetto Siamo al giorno 27 Mi piace che sto tenendo l'oro basso Vuol dire che stiamo costruendo tutto quello che possiamo Però questo episodio direi che sta durando anche troppo Quindi ci fermiamo qua Nel prossimo ci sarà la prossima ondata Dobbiamo completare il tutto in 60 giorni Però da questo punto di vista mi sento abbastanza sicuro di farcela Anche perché adesso Cioè voglio capire cosa c'è qua sopra Ma sembra ci siano davvero le montagne Quindi Probabilmente Dobbiamo fare un'altra espansione da questa parte Qui Qui E magari chiudere qui In queste zone E poi probabilmente davvero abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare Una costruzione interessante sarebbe magari questa Metterla qui Così abbiamo una visuale migliore Però tutto questo lo rimandiamo al prossimo episodio Quindi ci salutiamo qua Ci vediamo alla prossima ragazzi GG a tutti